Non è ancora primavera, ma si iniziano già a respirare i primi caldi. È proprio in vista della prossima stagione estiva che il gruppo Lindbergh Hotels & Resorts, proprietario a Pesaro delle strutture Excelsior, Nautilus e Cruiser, ha organizzato per domenica 19 marzo un Recruiting Day dedicato alla selezione di nuovo personale. Il gruppo ricerca 85 addetti da inserire in sala, cucina, spa e ricevimento, ma anche figure come direttori di hotel e resort da collocare in altre strutture del gruppo, che gestisce in totale 9 alberghi in tutta Italia, tra Sicilia, Sardegna, Emilia-Romagna, Umbria e le stesse marche. Dalle 10 alle 18 di domenica 19 marzo, proprio l'hotel Nautilus in Viale Trieste aprirà le porte a tutti i possibili candidati, che dovranno presentarsi all'appuntamento dotati di un curriculum vite e di lettera di presentazione. La giornata di colloqui sarà all'insegna della condivisione di tutti quei valori, quali accoglienza, ospitalità, professionalità e dedizione all'ospite, che caratterizzano il gruppo Lindbergh e che saranno oggetto di ricerca nei loro futuri collaboratori. L'investimento nella conoscenza e nella crescita continua del personale sono obiettivi sui quali si fonda l'iniziativa, che cerca di rispondere alle difficoltà sempre maggiori che riscontra il settore reperire personale qualificato.